Quando parliamo di astrobiologia, giustamente ci viene in mente la ricerca della vita, e solitamente parliamo di ricerca di forme di vita su altri mondi del Sistema Solare oppure della nostra galassia. A volte si parla anche di forme di vita qui sulla Terra quando, per esempio, parliamo di estremofili, cioè forme di vita così estreme che riescono a sopravvivere nelle condizioni più assurde, da incredibilmente calde ad acide, dall'Antartide fino ai deserti più secchi, dai polo nord fino alla Brianza, insomma, tutti i posti che consideriamo inospitali e dove comunque riusciamo a trovare qualche forma di vita. Ma questa ricerca di cui vi parlo oggi va nella direzione completamente opposta, perché mira a cercare posti dove non c'è niente di vivo. E sulla Terra è molto, molto difficile, perché appunto la Terra ha avuto miliardi di anni di tempo per permettere alla vita di diffondersi da tutte le parti e adattarsi anche alle condizioni più estreme. Quindi è molto raro riuscire a trovare un posto sulla Terra dove non c'è una forma di vita. E oggi vediamo cosa significa tutto questo e che implicazione potrebbe avere trovare un posto senza vita sulla Terra quando questo posto somiglia tanto, per esempio, alla superficie di Marte. Provate per un attimo a immaginarvi un posto sulla Terra che somiglia tanto alla superficie di Marte. Se ci pensate, magari vi è venuto in mente un posto con canyon e rocce molto rosse, deserti e soltanto tanta sabbia dappertutto e rocce vulcaniche. E da una parte, sì, specialmente per quanto riguarda i tipi di depositi rocciosi in alcune zone sulla Terra. Pensate al set, per esempio, di The Martian che è stato fatto nel nord dell'Africa e somiglia tanto per tanti aspetti alla superficie di Marte, però dal punto di vista geologico. Perché se cerchiamo di trovare un posto che somiglia per condizioni atmosferiche e di semplicemente abitabilità potenziale per la vita allora uno dei posti migliori dove andare a cercare è l'Antartide. Specialmente i deserti dell'Antartide. Lo so che non siamo abituati a pensare a deserti in Antartide perché deserti ci evoca dune di sabbia, posti molto caldi ma in realtà deserto è una zona dove le precipitazioni sono bassissime e in Antartide, specialmente in alcuni di questi luoghi, piove incredibilmente di rado e in alcuni posti neanche nevica. Ci sono dei posti appunto dove le precipitazioni sono molto basse ed è effettivamente un deserto. L'unica cosa che cambia rispetto ad altri a cui siamo abituati è che l'erosione è molto più lenta, quindi non c'è sabbia e le temperature sono incredibilmente basse. In Antartide si arriva a temperature tranquillamente sotto a meno 60, meno 70 gradi Celsius e quindi somiglia tanto a quello che potremmo trovare in una notte qualsiasi sulla superficie di Marte. La grande differenza che rende l'Antartide anche nei posti più estremi comunque più abitabile rispetto alla superficie di Marte è la mancazza di radiazioni grazie alla nostra atmosfera che ci protegge al campo magnetico. Ma quello che cerchiamo in questo caso è se il suolo incredibilmente freddo e secco diventa un limite grosso per la sopravvivenza delle forme di vita. Così due ricercatori, in realtà un gruppo più grande di ricercatori, ma due in particolare sono andati in Antartide e hanno cercato di trovare i posti più estremi. Sono andati nella zona del ghiacciaio di Shackleton che è una zona vastissima, piena di zone in mezzo dove il ghiaccio non c'è più ed è rimasto solo il suolo esposto e hanno preso 204 campioni. Sono tornati a casa e hanno fatto poi le analisi del suolo e si aspettavano di trovare vita dappertutto anche perché infatti finora abbiamo sempre trovato vita in Antartide anche nelle rocce più secche. Abbiamo trovato forme di vita che riescono a sopravvivere anche in condizioni molto saline in Antartide. Abbiamo visto funghi che riescono a sopravvivere un po' dappertutto e quindi ci si aspettava che anche se le concentrazioni sarebbero state bassissime perché magari nel vostro giardino in un granello di suolo potete trovare miliardi e miliardi di batteri magari in Antartide ne avremmo trovati migliaia e basta. Ma comunque ci si aspettava di trovare tante specie comunque resistenti. Invece ci sono diversi campioni dove non è stato trovato nemmeno un batterio e questo è molto significativo. Allora, la ricerca si chiama Exploring Boundaries of Microbial Habitability in Soio cioè a ricerca dei confini dell'abitabilità per i microbi, microbica, nel suolo in particolare appunto in Antartide. E mi fa troppo sorridere il fatto che uno dei ricercatori principali si chiama Nicolas Dragone che è meraviglioso immagino troppo draghi in Antartide alla ricerca di forme di vita e poi Noah Ferrer e Melissa Diaz insieme hanno condotto le analisi su questi campioni e nella maggior parte dei campioni hanno comunque trovato vita specialmente funghi tra l'altro che è stata, che ha detto a loro una grande sorpresa e secondo la ricerca potrebbe essere che i funghi in alcune condizioni sono più adatti alla vita persino di microbi ed archea che di suo è straordinario perché verrebbe da dire che i microbi essendo molto più semplici sono molto più adatti a sopravvivere in condizioni estreme e invece a quanto pare i funghi se la cavano. I funghi sono incredibili questa cosa non ve la dirò mai abbastanza e ora che ci penso dovrei fare più video riguardo ai funghi. Sotto vi lascio tra l'altro un video che ho fatto in passato riguardo a delle specie di funghi che abbiamo trovato intorno a Chernobyl che sono non solo resistenti alle radiazioni ma proprio crescono di più con le radiazioni proprio mangiano grazie a raggi gamma e sono pazzeschi e potremmo usarli come scudo per navicele spaziale futuri ma un'altra storia quindi i funghi sono incredibili però quello che ci interessa in questo caso è che in alcune di queste fiade in cui i campioni raccolti non è stata trovata nemmeno una traccia di vita. Ora, dal punto di vista del metodo scientifico è molto difficile riuscire a dire che qualcosa non c'è è una delle più grandi sfide filosofiche dietro il metodo scientifico come fai a dimostrare che qualcosa non c'è avresti bisogno di strumenti infinitamente sensibili è molto più difficile di quello che pensate perché non è come cercare di dimostrare che una torta c'è o non c'è sul tavolo perché potete guardare è molto limitato i campioni quindi potete dire vabbè, non c'è palesemente finito ma se vi chiedo di dimostrare per esempio se c'è o no una tazza di tè o una teiera in orbita intorno al sole come fate a verificare davvero ogni singolo posto di tutto quanto al sistema solare per essere sicuri contemporaneamente che non c'è davvero una teiera intorno al sole? è per questo che è molto difficile dimostrare che non c'è qualcosa è molto più facile fare l'opposto cioè dire che comunque se non c'è una prova dell'esistenza di qualcosa non ha senso poi dopo porre la domanda la scienza si basa sulla possibilità di legazione popper eccetera quindi in questo caso la cosa affascinante è che non trovare vita in questo caso non dimostra che non c'è vita dimostra soltanto che con gli strumenti utilizzati con i metodi utilizzati non abbiamo trovato forme di vita ora i ricercatori stessi sono molto attenti a usare il linguaggio giusto in questo caso e dire non che non c'è vita in quei campioni ma che non è stata trovata alcuna traccia di vita e sembra una distinzione da poco ma la cosa importante è che uno se c'è vita è comunque un limite molto molto grosso quello che abbiamo trovato alla diffusione della vita perché comunque significa che è talmente poca che sfugge anche ai nostri strumenti più sensibili quindi comunque significa che queste condizioni sono così estreme che più di qualche microbo non riesce a sopravvivere l'altra cosa però super importante e questo riguarda di nuovo l'astrobiologia di Marte è che se noi andiamo su Marte a cercare forme di vita da una parte ci aspettiamo condizioni più estreme di così e quindi non trovare forme di vita in questo caso potrebbe aiutarci a restringere il campo riguardo a quella che è una condizione potenzialmente abitabile e quindi magari dovremmo trovare condizioni meno estreme di così dall'altra parte però può essere che gli strumenti migliori che mandiamo su Marte non siano comunque a sufficienza sufficientemente sensibili per trovare vita anche se questa c'è quindi potrebbe comunque esserci vita su Marte e noi potremmo comunque avere un risultato negativo quindi da una parte è scoraggiante perché viene da dire va bene quindi su Marte che sono condizioni ancora più estreme non abbiamo chance di trovare vita sulla superficie dall'altra parte anche se noi mandiamo degli strumenti lì e non troviamo vita la parte incoraggiante dietro questa ricerca è che potrebbe esserci ma non abbiamo strumenti sufficientemente sensibili per trovarla loro stessi tra l'altro parlano di come in realtà vista la diffusione della vita è difficile immaginare che in questi campioni proprio non ci sia neanche una sola forma di vita neanche un singolo microbo o archea quindi è più facile tra le due se proprio devi scegliere è più facile immaginare che le concentrazioni di vita siano estremamente basse che di nuovo diventa un altro grosso problema per come andiamo a cercare vita e questo ci riporta alla sfida più grande che abbiamo riguardo a Marte cioè prendere dei campioni da portare a casa perché per quanto strumenti per quanto possono essere sensibili gli strumenti che portiamo noi sulla superficie di Marte alla fine saranno comunque ristretti a piccole cose che consumano poca energia non avranno mai la sensibilità e insomma la strumentazione necessaria che possiamo avere invece sulla Terra quindi invece di avere un laboratorio grande come una scatola potreste avere un laboratorio grande come un intero edificio e invece di avere un solo team scientifico che lo analizza con quel rover sulla superficie di Marte potreste avere i campioni che poi dopo sono una volta portati a casa sono mandati in giro per il mondo a tanti laboratori che analizzano i stessi campioni ma con strumenti completamente diversi indipendenti tra di loro quindi magari se un tipo di indagine non funziona magari funziona un'altra e se una di queste dà un risultato positivo da sola ma tutti gli altri sono negativi può essere che allora quello è un falso positivo e quindi avere tanti metodi diversi che vengono usati da tanti team diversi che non parlano tra di loro in modo da non essere influenzati può essere molto utile per essere sicuri che una volta trovata vita non è un falso positivo ma davvero l'abbiamo trovata con metodi diversi a team diversi in maniera indipendente quindi riportare i campioni se non altro è ancora più importante dopo questa indagine anche se ha grandi implicazioni anche per la storia della vita sulla Terra e quando e come ha avuto inizio e come si è diffusa e oltre a questo ci sta insegnando molto ancora sull'ecosistema e l'ecologia dell'Antartide che è ancora un grande mistero ed è molto importante riuscire a studiarla ora perché sta cambiando velocemente grazie al cambiamento climatico questo è quanto spero che la ricerca della vita di la mancanza di vita vi sia piaciuta vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante per la giornata vi abbraccio fortissimo continuate ad essere meravigliosi come sempre e non andate via perché vi ricordo sono tornate le clip finale quindi dopo c'è la end card in cui vi racconto un po' di altre cose curiose così che sono un po' più off topic ma fanno da contorno quindi se volete altra curiosità rimanete ancora qui se no vi voglio bene lo stesso mettete un mi piace mettete iscrivetevi e fate i bravi ci vediamo presto eccoci arrivati nella end card prima di raccontarvi un altro paio di aneddoti vi ricordo che sotto trovate il link a Patreon dove potete sostenere il progetto e aiutarmi a continuare a fare video e oltre a questo trovate anche il sito di Pumpling che è un sito con cui collaboriamo per magliette sono molte delle magliette che mi vedete portare nei video vengono da lì e potete prenderle con uno sconto di 20% utilizzando il codice Adrian L4U Link for Universe se utilizzate quel codice non solo voi avete uno sconto e vi potete comprare un sacco di magliette e anche calzini fighissimi ma oltre a questo sostenete quindi il progetto quindi se volete una maglietta per voi o volete regalarla a qualcuno compratela con il codice sconto e ricordatevi trovate il link qui sotto a proposito di magliette tra l'altro questa che porto è di uno dei miei anime preferiti di sempre di quando era bambino specialmente che è Sailor Moon questa è in realtà la copertina del primo numero di quando uscì e ci sono sempre stato molto affezionato in parte perché appunto era un'introduzione al sistema solare attraverso una storia molto avventurosa e anche perché in realtà era molto più molto più drammatica rispetto a come me la ricordavo cioè a riguardarla ci sono un sacco di cose che muoiono molti dei protagonisti succedono un sacco di cose abbastanza agghiaccianti era anche molto epica almeno comunque io ci sono affezionato perché me la ricordo come una delle prime grandi storie epiche che avevo visto e vissuto quando ero dall'alimentare fino alle medie ora detto questo l'aneddoto che volevo raccontarvi riguarda l'andare con esseri umani su Marte perché se da una parte abbiamo parlato della difficoltà di trovare forme di vita su Marte dall'altra parte sappiamo che gli esseri umani sono pieni di altre forme di vita di microbi eccetera sulla superficie della loro pelle e non solo quindi se andiamo su Marte sarà molto difficile rendere gli ambienti dove vivono gli umani completamente sterili e quindi può essere che riusciremo a portare un sacco di microbi sulla superficie di Marte e funghi ora da una parte è molto difficile far sì che non ci sia alcuna contaminazione dall'altra parte la cosa che possiamo fare è catalogare e capire bene ogni singola specie che viene con noi su Marte in modo da essere sicuri che quelle che portiamo non solo le conosciamo ma non sono in grado di sopravvivere sulla superficie di Marte e poi quando arrivano sulla superficie di Marte possiamo rintracciarle se poi dopo contaminano il suolo quindi noi abbiamo il timore che possa succedere non abbiamo dei dati riguardo quanto e come potrebbe succedere quindi magari durante le prime missioni che faremo su Marte terremo d'occhio il suolo alla ricerca di queste contaminazioni quindi questa potrebbe essere una via di mezzo per permetterci comunque di esplorare Marte stando sempre vigili e attenti riguardo a come riusciremo a non contaminare Marte perché magari ci accorgiamo che un batterio in particolare ce la fa e allora potremo creare dei disinfettanti specifici per quel batterio e quindi fare fuori quello che riuscirebbe ad adattarsi alla superficie di Marte questa è solo una delle ipotesi su cui si lavora ci sono tante idee in merito così come ci sono tanti piani riguardo a cosa fare poi dopo nei laboratori sulla Terra una volta che arrivano i campioni da Marte per essere sicuri di non contaminare quei campioni con batteri sulla Terra anche quella sarà una sfida non indifferente anche perché tutti i laboratori in caso che partecipano a questa ricerca devono essere standardizzati con le stesse regole e quindi visto che la NASA e la ESA le agenzie spaziali europee e americane stanno già lavorando per una missione agli inizi di anni 30 per recuperare campioni che vengono ora messi da parte dal rover Perseverance dobbiamo iniziare a ragionare su questi laboratori e in Europa c'è già in piano una costruzione di uno dei laboratori che potrebbe ospitare campioni in giro per il mondo potrebbero esserci nuovi laboratori simili e quindi una delle cose più importanti di cui parlare anche magari se qualcuno di voi fa biotecnologie per esempio è come riuscire a creare dei spazi completamente esterili isolati dall'esterno per ospitare campioni extraterrestri potenzialmente con forme di vita anche perché non vogliamo che quelle forme di vita contaminano la terra basta una pandemia anche se è molto molto improbabile quindi ecco questi sono alcuni dei altri campi di ricerca per cui è significativa questa di cui abbiamo parlato oggi e vedremo cosa ne verrà fuori nel frattempo vi abbraccio fortissimo comunque continuate di nuovo ad essere meravigliosi e ci vediamo presto